Il presidente del Senato Pietro Grasso sarà a Trieste lunedì 10 febbraio e nel pomeriggio, in occasione del giorno del ricordo, deporrà una corona al monumento all'Esodo in Piazza della Libertà. Quindi in prefettura incontrerà le autorità locali e i rappresentanti degli associazioni degli esuli. Sarà il momento istituzionalmente più forte delle celebrazioni per commemorare la tragedia delle foibe e il dramma dell'Esodo, illustrate quest'oggi in comune presenti i vertici delle varie associazioni che compongono l'arcipelago della diaspora Istro Giuliano Dalmata. Punto centrale la cerimonia alla foiba di Basovizza lunedì 10 febbraio alle 10. Contemporaneamente al Senato a Roma la consueta iniziativa nazionale che stavolta vedrà la partecipazione di un rappresentante dell'Unione degli Istriani. Siamo contenti che quest'anno la cerimonia non si svolga al Quirinale, non perché non vogliamo che ci sia il massimo rilievo al giorno del ricordo nel decennale di questa sua istituzione, ma perché al Quirinale esiste nel Libro d'Oro ancora il nome di Tito e di altri suoi 56 stretti collaboratori che propugnarono anche la pulizia etnica e danno degli italiani appunto come massimi insigniti della più grande norificenza che lo Stato italiano e la Repubblica italiana concede a un cittadino straniero. Le iniziative collaterali organizzate dal Comune inizieranno già sabato 8 febbraio e proseguiranno fino al 28 febbraio fra mostre, presentazioni di libri e convegni. Quella emozionalmente più coinvolgente si terrà l'11, il 12, il 13 e il 14 febbraio organizzata dall'IRCI con il determinante contributo dell'autorità portuale. Dalle 10 alle 12.45, su prenotazione da effettuarsi telefonando allo 040 639188, si potrà visitare il magazzino 18 e dunque vedere le masserizie, oggetto dello spettacolo di Simone Cristicchi che nonostante le polemiche trionfa in tutta Italia. Per molti anni non si è parlato o quando si è parlato si è parlato sezionando molto bene dal punto di vista politico naturalmente tutte queste vicende, quindi i cattivi da una parte, i buoni dall'altra, pulizie etniche non se ne parlavano, si parlava di crimini di guerra presunti o non presunti e purtroppo questi argomenti sono ancora molto difficili da togliere o quantomeno da rivedere non con il solito stereotipo con i quali purtroppo sono state forgiate per molti anni.